Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Dinamo Piovra e nella campagna col Papa. Siamo qui esattamente dove abbiamo interrotto, stiamo dichiarando guerra da Raguna per bloccare la creazione della Spagna. Abbiamo scoperto una cosa esaltante, cioè che Milano non si sa perché e si è alleato con Livonian Order. Quindi quando attaccheremo Milano per finire il Kingdom of God, noi potremo prenderci il vassallo Livonian Order, che sarà un vassallo importantissimo per fare l'obiettivo di radunare i Re Cavalieri Crociati, ragazzi. Che uno è sparito, quindi questo lo dobbiamo fare entro quando? Entro quando dobbiamo provare a fast in piccio? Entro il 1612. Entro il 1612 dobbiamo prendere almeno una provincia di questa zona e liberare il Teutonic Order. Ci facciamo due vassalli che non buttiamo più giù, li facciamo diventare Marche. Le Marche sono dei vassalli da combattimento, non ti danno soldi, però hanno dei bonus a combattimento, hanno più truppe, hanno più cazzi, insomma, non so male. Poi qua, sinceramente, non ce faccio tanto con questi vassalli qui. Livonian Order ci prenderà sta zona qua del Bartico, il Teutonic Order si mangerà la Polonia, i Cavaliari de Marta magari chiediamo la roba in Africa, sicuramente non chiediamo la roba da Sicilia, perché quella roba nostra è legittima del Papa. E se questi non spariscono, li possiamo dichiarare noi guerra all'improvviso, ma non abbiamo il claim sicuramente su Malta, cioè su The Night. C'è una... Stratoburgo, Stratoburgo caga sempre cazzo, io lo posso dichiarare a guerra... Eh, ma questi stanno nell'impero. No, questi... Questi gli diri fuori. Ecco, voglio fare noccasus belli, ma tanto quando questi spariscono e c'hai Malta, c'è una decisione che poi è accaduta storicamente a sta cosa, ragazzi, molto interessante. Quando i Cavaliari de Rodi sono stati cacciati, l'imperatore d'Austria per qualche motivo c'aveva Malta, non so come ha fatto arrivare questa Malta all'imperatore d'Austria, ha ricavato l'isola ai Cavaliari de Rodi, che sono diventati i Cavaliari de Malta, e da là sono rimasti. Cioè, quelli che stanno oggi a Malta, sono gli eredi dei Cavaliari de Malta. E... Ovviamente sono diventati una democrazia, non so più morti nere dei guerrieri, però insomma... Cioè, dovremmo cavare così. La speranza di far questo obiettivo se riaccende, diciamo. Aragona per magia non si è mai più alleato con nessuno, ha litigato con la Spagna, che la Spagna ha rifiutato di unirsi nel coso, nell'unione iberica, insomma, non si capisce che hanno fatto, devo precisare. Sti cinque chi so? Eh, sti cinque mi sarei so detrento. Vabbè, li unimo, dai. Poi sistemiamo un'altra volta l'esercito, sicuramente sti cinque li buttiamo, in realtà perché serve che fanno un cannone uguale a fan, di un'altra volta l'esercito d'Aragona. Ma qua qua passeranno tipo a Londra per arrivare a me in Roma. Allora, se io sgancio tre piotti, mi danno tutti i professionalismi, uno che costa la metà che è dar morale. Ma che vuoi di più? Ma che vuoi di più? Ma che vuoi di più? Non to' sta? Lo posso promuovere, magari? No, vaffanculo. Vabbè, ma lo più uguale. Ma lo più uguale perché se questo campa fino a quando fanno il Kingdom of God, poi accettiamo la cultura lombarda in automatico. E quindi lo potremo promuovere. Allora, vai, questo lo facciamo prima dalla tecnologia. Questo è un bonus incazzato nero, ragazzi. Questo è un bonus incazzato nero. Abbiamo un impatto di stabilità abbassato dalle azioni diplomatiche. Cioè, se tu rompi una trequa, invece di prendere 5 di stabilità, adesso prendi 3. Se rompi il matrimonio reale, ma non è il nostro caso, non prendi manco la botta di stabilità. No casus belli, se non sbaglio, mo' costa 1. Vediamo, se mettiamo caso voglio attaccare a questi. 1. Cioè, easy proprio, easy. Quindi potremmo anche attaccarli adesso. Uno di stabilità, uno di work saustion, e poi fa una guerra senza casus belli. Adesso abbiamo finito due gruppi di idee. Se questi due gruppi di idee si combinano, mi pare che tutte le idee si possono combinare. Noi andiamo su questa schermata, decision and policies, per attivare la prima policy della partita. In base a come le hai combinate le idee, ti danno, quando le finisce entrambe, un bonus. Allora, tu, in base a che stato sei, puoi attivare in denorma una, gratis per tipo. Cioè, la policy che sta qua è del tipo amministrativo. Questa è del tipo diplomatico, questa è del tipo militare. Se ne attivi più di una, ti cominciano a costare punti del tipo in cui hai messo la policy. Quindi, se ne attivi due diplomatiche, ti consuma un punto diplomatico, di solito. Perché una è gratis e la trafachi. Allora, noi adesso abbiamo anche la seconda gratis, The Vatican Museum, che è un'idea del Papa, c'è da una diplomatic free policy. Quindi, pure la seconda diplomatica sarà gratis per noi, perché siamo il Papa. Per adesso noi prendiamo questa, più un diplomatico, che, insomma, non è, ci serve tanto, e 15% del mantenimento delle mercenariche. Te devo dire, c'è solo questa, e quindi la apriamo. Però questa è merda, eh. Questa è proprio merda. Abbiamo trovato l'esercito di Aragona, lo sfondiamo, l'abbiamo fatto piangere. Mo' non lo abbiamo più, questi scapperanno fino a Valencia, sicuramente. Non possiamo andare là, perché dobbiamo assediare i P&A, questi vanno qui, questi bloccano il porto di Valencia, abbassare. Già stanno a piangere, è già finita la guerra. Sì, beh, in questa è una continua guerra, ma in realtà è già finita. Posso chiamare un alleato, ma senti, ma sti diplomatici non stanno a fancazzo, perché stanno a fancazzo, fammo così, vai, tiè. Non messi 47 a far, vabbè, va bene così. Le vanno a spiare una, ecco qua, abbiamo quello libero per far trattare di De Pache. Abbiamo ancora il monopolio del Livestock, però ora comincia a costare dubbiote, quindi in realtà si vede che abbiamo assai provincia che ci danno il Livestock, cioè le mucche. Però vabbè, dai, il punto di mercantilismo lo continuiamo a P&A. Oh, quando è abbastanza sordi puoi fare una dottrina navale. Allora, in realtà le puoi cambiare, però veramente per cambiarla devi cancellarla quella che c'hai e poi ne fai un'altra. Allora, ci vanno assai sordi e devi ammazzare un po' dei marinari, devi immolare al dio delle dottrine navali. Tu prendi e ammazzi 3600 marinari e puoi decidere di fare queste qua. Non si capisce perché te consumi i marinari. Allora, potremmo decidere di pagare 15% di navi del mantenimento, ma noi siamo riechi. 15% di combattimento in più è regale. 33% dei poteri commerciali ha le navi commerciali. Oppure fregassi le navi. Allora, io sinceramente questa qua la metterei solo se sei una nazione che si pisterà sempre che le navi. Ma noi tra un po' cominceremo a non usarle più le navi una volta. Cioè, le navi ci serviranno adesso per fregassi Venezia, per sbarcar qua a Tunisia e poi in realtà che cazzo c'è fai che le navi? Al massimo giusto per bloccare Costantinopoli qua. Cioè, io sinceramente non è soltanto capace di girare le navi, però insomma, presumo che questa data li mette quando sei proprio un aval focused. E quindi tipo che stai girando con l'ingheterra in cui li utili le navi con cui combatti. Quindi io adesso devi mettere Gallery Combattability perché poi qui noi abbiamo già altri bonus a Combattability. Quindi facciamo così, vai. Poi al limite la cambiamo. Se qualcuno di voi mi consiglia che servono sempre quella di catturare le navi nei commenti, ce la metto ragazzi. sono aperto a suggerimenti perché sulle navi sono impedito. Voi lo dico sinceramente. E il Papa che so io non è più infallibile. Vabbè, faccio finta di non avere il letto. Posso convertire due province ma non mi pare il caso. Incredibilmente col Papa c'ho solo un missionario. Eh, ma quando conquistamo Gerusalemme sta storia cambia. Ha vinto l'Austria, guerra mondiale. Che palle. Però, vabbè, almeno adesso i protestanti saranno più marci nell'impero. Quindi alcuni elettori non potranno più essere elettori. Vabbè, ma moce mette l'amici suo all'Austria perché questa qua non è che sia proprio una cosa regolare. un corpo dei amici, dei amici, dei amici che fanno i picci. Ci stanno sempre a iniziare a Roma compiere. Eh, quindi adesso l'Ionian Order si è arreso. E eccoci qui. Arrieta il momento. No! Perché? Ammazza! 62 di negativo per la War Exhaustion. Quanta cazzo di War Exhaustion c'ha? Appena gli passa la War Exhaustion a l'Ionian Order fanno sta guerra qua a Milano. I bizza del Papa. Incredibile. Queste notizie che... Te aspetti. Guarda, guarda questi stronzi. Perché pure a noi ci arriva sto bonus? Sto nell'Impero? No! Succede a tutti i cattolici forse? Vabbè, è arrivato un buon modificatore a tutto il mondo cattolico. Allora poi posso convertire finalmente le province della Bosnia che stavano qua in Bosnia, erano ortodosse. Dubbiote e meno autonomia a Monferrato? Perché no? Perché no, dico io. Perché no? Questa non finisce mai, questa missione, perché continuiamo a prendere Malus e integrare i vassalli. mo' ho finito, quindi teoricamente manca solo Napoli. Quattro euro al mese pagamo per Napoli, ma noi continuiamo a guadagnare otto. Vabbè, ma una volta che te sbrocca l'economia, perché c'hai il nodo di Genova e di Venezia, praticamente tutto tuo, ragazzi, ti può permettere gli advisor a livello tre, quattro, cinque. Mo' infatti se siamo particolarmente ricchi, adamo un'altra promozione a qualcuno. Guarda, questo diplomatico, cioè questo qua io lo posso da? Sì, perché costa la metà. Perfetto. Oh, advisor livello quattro, eh. Attenzione. Lo può portare massimo a cinque, ma poi cominciamo a costar forti, quindi la promozione a quattro e a cinque fatela solo su quelli che costano la metà. Allora, la Spagna sta attaccando, però per fortuna noi abbiamo già occupato tutte le province che ci servono, e questi qua invece li mandiamo qui. Ma vaffanculo, torna sulla nave. Guarda che giro voleva fare. Voleva passare da lo stretto di GBT a andare a piedi fino alla Tunisia. Impazziti proprio questi, eh. Senti, sbarca la Tunisia di Corsa prima che c'era la Spagna. La Spagna ha capito che se stoffa qualche impiccio ha dichiarato guerra pure lei, o forse semplicemente si è accorta che dopo mille anni c'era la Rarona, non c'era nessun allenato. Certo, c'è anche da dire che stava in guerra pure lei da cent'anni la Castiglia, quindi probabilmente per quello non ha mai fatto gli impicci. Che cos'è questo? Allora, o prendo qualche bacetto con Ofali, oppure 15 di Flow Power, perché no? prendo il Diplo Power. È arrivato il momento, ragazzi. Più un missionario, non sembra niente, però abbiamo finito con questa, l'ultima idea del Papa che c'è da meno 10% ad Aggressive Expansion Impact. e siccome hai finito tutte le idee col Papa, si attiva anche l'ultima idea finale proprio definitiva del Papa, più 5 di disciplina. Quindi adesso il nostro esercito magari invece di far pietà comincerà a vince. Almeno un pari numero, insomma, spero che cominci a vincere invece di fare quelle figure de merda che ho fatto certe volte sul canale. Buona, andiamo a Kef. Dobbiamo prenderci questo episodio qui, cioè questo territorio qui. Che cos'è qua? 3 di armi professionalismo perché sei bello. Mazza. Sono contento. 5 di devozione o 10 di prestigio. Incredibile, ragazzi. Cioè... Allora, intanto la devozione continua a salire anche se stiamo a 100, quindi non potrà più scendere sotto 100 a me non la paghiamo in qualche modo. E solo il prestigio bocca là. Cala di 0,48 all'anno. Cioè, incredibile. Incredibile. Se non prendiamo anche un solo altro bonus al prestigio più uno del prestigio all'anno pure il prestigio sarà sempre maxato per tutto il resto della partita. Cioè, questo è per dire che Papa insomma ha dei bonus abbastanza rotti, devo dire, perché... Sti bonus infiniti. Comunque c'è arrivato il secondo missionario mettiamolo a lavorare. Bosnia e Poderinger adesso diventeranno cattolici. Aragona ha mega perso. Vediamo se si arrende. Non si arrende perché non abbiamo conquistato il forte di Kef. Quando tu non occupi un forte non puoi prendere la roba che sta nella provincia... dove sta quel forte che non hai conquistato, insomma. Quindi, senti, ma se prendo leggermente meno sordi e gli faccio le war reparation... Oh, ecco qua. Perfetto. Mi sa che non ce la faccio perché la Spagna purtroppo ha occupato qualche provincia quindi al 100% mi sa che non ce lo daranno ma a noi ci piace sognare. Gli hanno fatto a nulla qualche amicizia? Nooo. È un vassallo del Commonwealth. Ci possiamo far trasferire il vassallo, ovviamente. Quindi... A vero, è arrivato il momento, ragazzi. È arrivato il momento. Basta. 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 Piazziamo subito quello a dare i bacetti all'Ottomani che non si può vedere, ragazzi. Lo so che il Papa alleato dell'Ottomani è una cosa contro la legge, però... Facciamolo lo stesso. Mo' se la Castiglia mi occupa qualche zona qui io, cacola, lo sico proprio. Spero che siano bloccati col forte. Non mi vale per trasferire questi cristiani qua in Aragona-Cacola. Eh, però lo devo fare. Vai, fatelo. Mamma mia, no. Valiera Coglie. Oh, Napoli, ma ce bannate? Ce bannate? Gli ho detto a Napoli da andare là. Vediamo se ce va. Ma non mi pare che sia così intelligente da capire il vassallo. Ma infatti è rimasto da fermo a guardare. Forse sta bloccato da forte. Però, insomma... Chi è, oh? Ah, ho vinto la battaglia di prima. Ok, mo' ammazzo tutto l'esercito di Aragona. Tu fai così. Ti è, a posto. Speriamo che non ci inculano qualche provincia i spagnoli. Ecco qui. Ah, mo' ce stavano a Napoli. Ho stroncato l'esercito di Aragona, ragazzi, quindi mo' probabilmente il 100% ce lo dà... L'Austria ci vuole dichiarare a guerra. L'Austria ci vuole dichiarare a guerra. 8 mans. 8 mans. 8 mans. Niente, allora facciamo così. Finiamo subito la guerra e poi famo l'amicizia con gli 8 mans che ci difenderanno. Abbiamo 10 giorni. Se ci dichiarano a guerra in questi 10 giorni è finita, ragazzi. Allora, tu non andare lì, non andare lì mi faccio fare il giro perché sennò dopo non posso ricollegarmi nelle mie terre originali. Rimarranno bloccati qua e devo trasportare anche le navi e non me va. E... Ah, mi ho preso un bel po' dei territori, eh. Non ho controllato la coalizione quindi se adesso mi fanno la coalizione me lo merito. Quanto sta negativo Venezia? Eh, no, no. Non c'è bisogno di farlo. Non c'è bisogno di fare questo più 50. Allora, vai. Eccolo, eccolo, eccolo. No! 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 Mi devo riallear con questi? No, lo so. mi sarebbe non conviene. Mì, chiaro, mancano 13 punti. Come gli rimedio questi 13 punti? È colpa della diplomatic reputation. No, senti, mi ralleo al Commonwealth. Sta in guerra alla Russia. Questo non mi viene a difendere. No, questo non ci viene, è inutile, non lo faccio. Sta già in guerra alla Russia. Non c'ha senso. Qualcuno che odia l'Austria? io? Gli ottomani? Scusa, ma se puoi insultare l'Austria così, gli ottomani finalmente... No, no. Eh, Portugale e Castiglia ce stanno, però Portugale e Castiglia stanno già in guerra, quindi questi sicuramente mi vengono a aiutare. e mi sa che sono culato ragazzi, se mo l'Austria mi diera guerra mi rompono il bucio. Ho perso. Mo dovremmo vedere se sti forti sulle arpi funzionano come avevamo pensato. Quante druppe c'ha l'Austria per curiosità? 76k. Allora ragazzi, manco troppi più di noi. Tocca vedere quanta gente va in aiuto all'Austria e poi dovremmo gestircela su questi forti. Mo aspettiamo di fare la tech militare perché con la tech militare di solito non ti dichiarano guerra le persone perché hanno paura. Stiamo facendo un bel po' di core. Mo io queste qua se riesco a convertirle le converto e poi ci faccio la cosa commerciale. Questo perché normalmente tu potresti fare allora ecco qui mo vi spiego il trade company ragazzi. Quando tu stai fuori da un dal tuo continente dalla tua zona iniziale più che altro se non sbaglio forse ce l'ho il filtro delle aree vediamo eh vediamo ecco qua allora se stai fuori dall'Italia tutto il resto di queste cose che vedete colorate le dovreste poter mettere nella trade company ok? Prende voi fate le compagnie delle indie orientali invece la fate in Nord Africa la fate in Egitto la fate in Anatolia insomma così via se non sbaglio dovrebbe funzionare appena stai fuori dall'Italia però altrimenti potrebbe valere fuori il tuo continente insomma o è questo o è quello che vi ho detto prima o è fuori da Western Europe ok? Comunque a noi poco ci importa perché sicuramente funziona qui allora quando tu stai in Nord Africa puoi cliccare questo tastino ok? oppure lo puoi fare direttamente dal nodo commerciale aggiungendo tutte le province c'è la trade company allora la trade company ti compare nella tua schermata del vassallo ma non è un vero vassallo cioè tu non perdi il controllo di questo territorio semplicemente ti compare là e ti dà delle informazioni sulla trade company allora che cosa fa la trade company intanto abbassa no l'autonomia rimane così però ti comincia a dare un bel po' del potere commerciale e un po' dei cazzi e se la tua trade company in modo commerciale ha almeno il 50% della potenza commerciale del nodo ti dà un mercante quindi fortissimo calcola fortissimo poi costruite gli edifici unici nella trade company e soprattutto se nella trade company ci sono stati di religione diversa dalla tua non conta più nel conteggio della religiosi uniti quindi tu se converti la tua western europe tutta a cattolicesimo oppure l'italia lo vedremo quando conquistiamo qualcosa vediamolo subito si può fare i compagni qua in spagna no allora tutta la western europe dovrà essere cattolica il resto del mondo potete lasciare la religione che vi barà a voi e non vi conterà né al conteggio ok io cerco ugualmente di convertirla sta roba al cattolicesimo perché non per giocar del ruolo diciamo ma perché il papa purtroppo essendo il papa non prende bonus di amicizia con le altre nazioni su questa schermata della religione potete vedere cosa succede nella tua religione cioè la tua religione ha meno 8 unrest praticamente ok se invece hai un eretico che può essere o protestanti o riformati visto che noi siamo cattolici ci avranno più 3 unrest quindi non i ribelli non vi rilevate più dalle palle per per forza garantiti che accola dovete per forza convertire tutti gli eretici e la stessa cosa con gli infedeli ok quindi io direi che prima di fare 3 company noi facciamo la conversione poi noi facciamo una 3 company dei cattolici che c'è da i mercanti e se cose i ribelli si sogniamo forse l'Austria è finto d'accordo l'ho già visto nella post-produzione dei tre episodi che ci voleva attaccare ma non ci ha mai attaccato vediamo se è vero di solito le nazioni che trovano di guerra si fanno i conti no niente niente ci hanno attaccato ci hanno tradito tutti in altra volta come immaginavo come immaginavo ci hanno tradito di solito si fanno i conti e guardano se sta in guerra invece questi ci hanno voluto attaccare lo stesso perchè sono stronzi allora mo noi attichiamo subito gli editi difensivi su tutti i forti del confine qui passi come il cazzo zio tocca capire se questo forte è bloccato il viso ragazzi perchè se non bloccato il viso io c'ho un buco nelle mura questi vedo che stanno a camminare qua guardate questi qua questi passano easy mettiamo pure qui un local defensiveness noi chi ci è venuto contro ah ragazzi Brandenburg e la Svizzera hanno risposto la nostra chiamata ma sono degli eroi sono degli eroi siamo di svantaggio truppe ovviamente senti però se io faccio una una corsa a Augsburg gli sparo col cannone poi Cilli Cilli una corsa a Ingolstadt spariamo col cannone assediamo tutti gli famosci Brandenburg intanto attaccata a nord eh c'è pure la Bohemia contro perchè la Bohemia è persa una union di di sta cazzo di Austria non possiamo passare qui ma possiamo andare in Svizzera ragazzi la Svizzera ci dà un altro livello su Emura praticamente Milano ci blocca il passaggio ma Milano è contenuto nei nostri territori quindi noi possiamo passare dove ci pare a noi allora andiamo qui vediamo se sti eserciti si muovono bene o vediamo subito se qualcuno rimane indietro no post post sti otto sti otto non serve un cazzo forse però riesco a andarci a ammazzare no non dà il passaggio Venezia grazie Venezia in realtà ci stai facendo un favore vado a bloccare il forte qui perché la flotta veneziana fa ridere quindi qui probabilmente vinciamo noi vinciamo noi a livello navale è incredibile considerando che sto deficiente con le navi l'ultima idea militare ci conviene che cosa fa qui artilleri fire artillery shock no prendiamo questa prendiamo questa ora andiamo a sparare col cannone di colza qua però purtroppo i nostri alleati hanno preso l'assedio quindi non possiamo sparare col cannone perché dobbiamo essere i controllori dell'assedio noi quindi noi in realtà attacchiamo l'Austria attacchiamo l'Austria attacchiamo Sundgao e Breisgao in questi due province e qua non si capisce mai come si pronunciano perché il tedesco usano solo i tedeschi c'hanno i mitri gli hanno proprio sparato a bomba sto forte mi hanno fatto piagne allora la flotta blocca tutti i porti dell'Austria ragazzi tranne questi qua in nord Europa ma non penso che se fanno il giro del mondo per venire assediata dall'Olanda fino a qua spariamo con i cannon così la tecnologia militare che ho appena detto che ci serve la facciamo con il DIC quelli stavano assediando Ingolstadt ma ci hanno ripensato potevamo vincere l'assedio di Ingolstadt e cacciare Ingolstadt ma purtroppo non gli piace non gli piace vincere ecco qui ci fanno piangere bruciamo il territorio bruciamo il coso così arrivano più lenti forse vinciamo l'assedio e passiamo in difesa abbiamo perso i nostri rinforzi abbiamo persone però questi attaccano subito qui questi dovevano scappare fino a Roma no a posto forse fanno tornare indietro e forse andiamo a prendere i cosi l'Austria c'ha i mitra non si sa perché non si sa come fare c'ha i mitra allora rotto il cazzo si scappamo senti una compagnia mercenaria ignorante tanto il professionalismo non ce l'avemo 13 al mese andiamo non fuori di più di manpower cioè no di manpower del force limit ci andiamo proprio fuorissimo gli facciamo un casino gli facciamo un casino gli facciamo piangere gli facciamo piangere Napoli è arrivato a fare il casino abbiamo vinto noi attacchiamo qui momenti di massima tensione alta tensione su dinamo piove ragazzi dobbiamo difenderci per la prima volta dall'Austria davvero stavolta davvero Brandenburgo tra un po' ci abbandona è stato bello averti come alleato Napoli non capisce un cazzo è andato a assediare davanti a un fottio di gente da Bohemia ma vince 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 ho vinto l'assedio di Bresgau non si sa come l'ho guardato male quindi è morto i mercenari nuovi stanno assediando il castello li lasciamo lì da soli senza generale così non vinceremo mai qui 40.000 contro 3.000 di Aquileia grazie un applauso ai 3.000 di Aquileia che verranno ricordati con un buon momento spariamo qui sì Napoli controlla l'assedio ma Napoli è il nostro passaggio quindi possiamo dirgli noi di sparare col cannone Augsburg bello per te è arrivato il momento da rendete ma te ne affanculo Augsburg non gli faccio cancellare l'alleanza perché è meglio che sta alleato con Augsburg visto che fa cagare se poi si alleano con Gesù Cristo poi comincio a perdere è l'ora di far fuori questi 29.000 senza morale dell'Austria li facciamo fuori stiamo in difesa 50.000 contro 27 vincono loro perché il nostro esercito fa piangere no vinciamo noi a posto andiamo via di corsa meno 13% questo è Brandenburgo calcola o forse ci hanno dichiarato guerra per prendere Zagabria sì 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 quindi in realtà stanno controllando quel forte lo potevo cancellare invece adesso ci darà war score al nemico chi posso cacciare pure Cilli Cilli e Ingolstadt allora tocca attaccare Ingolstadt ragazzi dove è Ingolstadt la capitale è quella questi li mettiamo dietro no anzi prima tu vai questo e quello piccolo mezzo rotto sta fermo prima insomma qual è quello piccolo questo no questo è quello legato allora è questo perfetto l'esercito fatto male sta a casella prima i mercenari mi sa che non possono sparare col cannone perché non c'hanno i cannoni e invece sì tiè allora ci spariamo se c'è bisogno gli entriamo dentro la breccia delle mura questa è un'operazione molto rischiosa che ti fa morire non si sa quanta manpower però insomma questi sono mercenari quindi sono fatti apposta per andare a morire la bohemia sta facendo il giro ma non ci interessa ci stanno attaccando 50.000 mettiamo qui forse vinciamo l'assedio o no ho perso ho perso ci spondano ci spondano ci fanno malissimo mo scappiamo appena si può scappiamo vai tornate qui dietro al muro del muro decinta tra un po' quelli là ci salutano e poi tutto l'esercito ci viene ad attaccare sulle mura quelle giuste questi 35.000 mercenari appena finiscono li useremo come primo esercito che attacca questi che ci stanno prendendo le mura noi siamo fuggiti dietro la linea difensiva quindi non ci avevamo potuto inseguire 40.000 manpower abbiamo ancora quindi non ci preoccupiamo manco per finta questi gli ho detto le mouse non gli è piaciuta l'idea no 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 forse devo scappare questi mi stanno a punta tutti su french fans preso il forte preso il forte preso il forte 62.000 con 5.000 intorno e 22.000 abbastanza vicini questi mi fanno piangere però se arriva tutto l'esercito attacco perché c'ho il bonus difensivo prima c'erano i mercenari non devono vincere vinciamo noi c'è pure il brandenburgo c'è sta a tutti la più grande battaglia del canale si vince forte? si no questo è battaglia colfo venezia ci avevo creduto ho perso ho persone ho persone vaffanculo i navi mi hanno fatto credere di aver vinto se vuoi far pace bianca oppure da solo zagabria amarendo come pochi ti è offer tribù de zagabria tacci tua è come austria old vien ma te lo voglio da è quello che mi hai chiesto come come non lo vuoi ah non vuoi sta roba qua allora su gesto offer che vuoi zagabria all'austria don giri all'austria frugli all'austria non ce la penso proprio trentino all'austria manco forcaliero alla provenza si si questo questo magari si calcola questo magari si oppure tolone no aspetta returna gores acchisi alla provenza o voi si o voi si o voi no vignone è mio breccia venezia no dove sta l'altra tolone a provenza tolone acchisi a provenza lo vogliono che cos'è qui è bloccato e quindi succede qualcosa allora ma te posso dare una provincia del brandenburgo qualcosa prignizza al brandenburgo non lo vuole wismar al brandenburgo non lo vuole potrei dar qualcosa alla tunisia e poi me la ribevo subito ma in realtà io non sto perdendo niente di interessante qua sto perdendo i territori veramente inutili questi li riprendo subito senti ma un po' troppo però che fa la tunisia va bene va bene così poi tolone lo togliamo un altro la tunisia tunisia la tunisia allora avevamo pure l'ultimo cario qua nella tunisia no va bene gli doveri da tutto no non va bene ma quante cazzo le truppe c'hanno 100k austria ma secondo me io ce la faccio a vincere con queste cose non mi vado a dargli tutta sta roba secondo me con i forti ce la faccio a difendere c'ho ancora 36.000 manpower questa si può continuare perfetto il brandenburgo si è reso quindi 10.000 punti vittoria in meno all'austria ti piacerebbe mo' tutta sta roba zì allora famo così famo pure così a voi questa mi parete no ci stiamo quasi ci stiamo quasi una provincia alla cosa alla tunisia eh ma tunisia è una di quelle buone che fece forte caiwan eh no io dammo tunisia la tunisia tacci tua allora te ne dammo due tre dovete dovete a tre stati alla tunisia e sti tre in giro e fa chiudere subito la guerra che probabilmente non vinco è certo che l'austria c'ha veramente un fottio di roba ho quasi finito i core quasi finiti i core no non ma rendo calcola continuo oh ma sto episodio è lunghissimo ragazzi finiamo voi di vedere la guerra nel prossimo episodio a presto